Hello ragazzuoli e ragazzuole, ben arrivati nel ciclo dei video di Halloween's, Halloween's in questo momento alborga nel nostro cuore perché purtroppo per quanto riguarda le temperature atmosferiche, siamo più dalle parti di ferragosto di nuovo voi direte, Penny ma tu stai girando un video con le maniche lunghe? Ecco, sto patendo una sofferenza che è perché mi sentivo in clima Halloween's e non volevo poter fare una canottiera cioè sto video, anzi vi dirò di più, volevo farlo di sera con le candele dietro, non l'ho fatto solo perché sono un po' rimbambita la sera in questo momento della mia vita e di conseguenza te lo giro adesso Comunchi, comunque, questo è un mese dedicato appunto alla festività di Halloween's, ogni settimana dovrebbe uscire un video appunto dedicato al mese di Halloween's ci sarà lo Spookity Time, il solito video, ci saranno altri video a tema con una tematica Halloween's se tutto va bene ci sarà anche un video con un'altra persona in cui parleremo di un famoso autore qualcuno mi ha chiesto di fare la seconda parte del video, ho fatto l'anno scorso un video di Stephen King per i principianti non vi preoccupate, chiaramente il grande maestro Stephen King non dovrebbe mancare in questo ciclo di video però vediamo vi dico anche stay tuned perché anche nel podcast che ho con Alice, sotto poi vi lascio anche il link della sua pagina e della pagina del podcast, anche lì oltre alle due canoniche puntate faremo pure la puntata speciale di Halloween's che appunto per Ali è Halloween da settembre fino a Natale più o meno più o meno, dura vari mesi per lei Halloween per cui giustamente dobbiamo celebrare Halloween in questa prima puntata invece parliamo di un personaggio che io amo tantissimo di un fumetto che mi piace tantissimo e di un personaggio che purtroppo quando viene tirato in ballo viene tirato in ballo sempre per i motivi sbagliati cioè non lui proprio come persona, neanche nei fumetti effettivamente poverino però lui se ne trasbatte per cui ecco il bello è anche questo di lui ma in generale quando lo si nomina inizio a tremare perché dico oh cassa ma per fare una cacata atomica cosa che è successa spesso ma ne parleremo più avanti ecco di tutto ciò il fumetto in questione è Hellblazer il personaggio di cui sto parlando e che io amo tantissimo e lui non ricambierebbe per niente il mio amore anzi è John Constantine mi raccomando Constantine perché sennò quello che a me viene da fare quando le persone dicono Constantine è questo sperando che la persona pigli fuoco però è il personaggio principale di questa saga di Hellblazer ma non è nato con Hellblazer in realtà John Constantine per la prima volta non compare in un fumetto a lui dedicato ma in un altro fumetto cioè fa la sua prima comparsa a giugno del 1985 in Swamp Thing che è un fumetto criptoideato da Alan Moore il personaggio di John Constantine è stato creato infatti da Alan Moore e da Steven Bissett Hellblazer uscirà con il primo numero a gennaio del 1988 e verrà pubblicato inizialmente da DC Comics e poi da Vertigo da marzo del 1993 lo sapete che Vertigo adesso come etichetta non esiste più è stata chiusa è un fumetto che è andato avanti per tantissimi anni è il fumetto che ha avuto la run più lunga della storia della Vertigo perché è durato 300 numeri e si è chiuso nel 2013 per cui dall'88 al 2013 cioè una figata pazzesca quali sono alcune curiosità che riguardano il fumetto Hellblazer dopodiché passeremo a parlare appunto di John Constantine in particolare uno che in teoria Hellblazer non si doveva chiamare così ma si doveva chiamare Hellrazer ma quando c'era da scegliere il nome che l'ha spuntata Clive Barker perché in quell'anno ha deciso di uscirsene con il suo film appunto Hellrazer che era tratto da una serie di suoi racconti era nei libri di sangue se non ricordo male è arrivato prima lui e ha detto ah pupa ho rubato il nome e da lì hanno detto ah beh ci tocca cambiarlo che famo e l'han chiamato Hellblazer l'altra particolarità che sono sì 300 numeri e John Constantine fa una cosa molto particolare che non succede praticamente mai con le run così lunghe per chiari motivi in vecchia festeggia più di un compleanno all'interno della run e ha una certa quando finisce appunto il fumetto totale basta l'ultimo numero della run originale io adesso vi parlo della run originale poi di varie eventuali robe che sono successe dopo ne discutiamo in fondo l'ultima curiosità che forse è penso quella più conosciuta è che l'ispirazione per quanto riguarda la fisicità di John Constantine viene da Sting che ha scritto anche un'introduzione a una delle ultime raccolte che sono uscite tra l'altro in Italia anche per la Panini per il trentennale di Hellblazer in cui appunto raccontava il suo punto di vista sul personaggio di John Constantine e vi invito se vi piace ecco di andarlo a recuperare chi è però John Constantine? che cosa fa John Constantine? voi dite ok bello interessante ma chi è stupido? cioè nel senso io l'ho visto un po' in giro è capitato in qualche telefilm ho visto un film e ma chi è John Constantine? intanto John Constantine è un detective dell'occulto è un mago anche se per sua stessa ammissione lui dice che any count could do it la magia cioè vuol dire che praticamente ogni sfigata ogni fighetta può fare la magia non è che si dà tanta importanza è un truffatore è di Liverpool ma vive a Londra è fascinante ma estremamente cinico molto disilluso per niente romantico pensa molto ai cazzi suoi è un egoista e agisce da solo o quasi ed è meglio così ve lo assicuro perché quando agisce in compagnia succede sempre qualche danno che gli sta in compagnia ultimo ma non meno importante o forse più importante di tutto il resto John Constantine agisce soltanto per tornaconto personale degli altri non gliene frega assolutamente una mazza ha dei poteri magici ed è potente come mago ma è difficile che utilizzi questi poteri di solito preferisce ingannare con dei trucchi classicamente è raffigurato con questo abito blu con la camicia bianca la cravatta e con il trench e anche qui assolutamente non meno importante ma anzi fondamentale anche per un celebre risvolto di trama con la sigaretta sempre in bocca John Constantine è bisessuale è risaputo è palesemente anche se io forse più che bisossialità alla luce dei fatti come si dice che si scoperebbe anche i comodini non lo so però quello ha avuto alcune relazioni amorose più o meno durature più o meno finite bene alcune magari non finite benissimo alcune che gli hanno fatto molto 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 male quando sono finite la madre è morta dandola alla luce per cui già qui c'è una permessa che come dire segna abbastanza la sua vita nel momento in cui è morta la madre è morto anche il suo fratello gemello ha una sorella Cheryl il padre vabbè il padre non è che proprio c'è come dire gli stava un po' sul cazzo il figlio ecco detta un po' così ha una nipote a cui è tantissimo legato era meglio di no così ve la butto lì cioè niente di grave però ve la butto lì perché cioè come di ecco era meglio di no nel corso dei 300 numeri che lo vedono protagonista affronterà sia diversi demoni ma anche dei cattivi reali tipo uno dei più famosi è The Family Man che è un serial killer e che tra l'altro la sua trama lo coinvolgerà anche personalmente pensate a quello che vi ho detto prima sicuramente di fianco alla run di The Family Man che fa parte del primo ciclo di storie quelle di Giammi Delano che è il primo diciamo autore di appunto Hellblazer una un'altra delle più famose se non forse proprio la più famosa è il primissimo ciclo di storie che ha scritto Garth Ennis che ha scritto tutta una serie di numeri tantissimi appunto per Hellblazer Garth Ennis è lo stesso di Preacher di The Boys ha scritto dei numeri di The Punish insomma pezzo grosso con il fumetto ed è appunto abitudini pericolose perché vi dico che la più famosa perché adesso vi racconto la storia secondo me fate ah cazzo è quando John Constantine scopre che a furia di fumare 87 pacchetti al giorno di sigarette gli è venuto il cancro di polmoni e gli rimangono tipo due mesi di vita e lui dice ok sono un po' potuto adesso che cosa faccio anche perché John Constantine essendo che non è proprio una brava persona ed essendo che i demoni non è che li ha trattati tanto benissimo dice beh io quando andrò all'inferno mi sa che non è che me la passerò benissimo benissimo e per cui deve cercare di capire come fare per salvarsi le chiappe ora il personaggio che io vi ho delineato di John Constantine è chiaro che non è che invoglia tanto la lettura perché vi dite sì ho capito però c'è veramente tipo l'antipatia fatta a persona su due gambe dipende allora dipende nel senso che in base allo scrittore che ci sta dietro John Constantine si mantiene più o meno i suoi tratti fondamentali giustamente perché il personaggio è quello però a turno o un po' si diventa più chiuso o a turno diventa si addolcisce anche un pelo per esempio nella run di Garth Ennis vive anche un'importantissima storia d'amore e per cui lì si addolcisce un attimino poi gli succedono altre cose che gli fanno un po' passare la voglia di aprirsi al mondo esterno al mondo degli altri però in generale diciamo che in quella run è un pochino più così un po' più tranquillo poi a turno dipende chi è che in quel momento è arrivato a scrivere decide che cosa fare con John se farlo incavolare più o meno come vi dicevo dopo 300 numeri nel 2013 si è chiusa la run originale a questo punto si è deciso diciamo di ritentare la sorte e ritentare a riproporre John Constantine non è andata tanto bene questa cosa cioè se la run originale ha sicuramente avuto fortuna e è assolutamente celebre anche per via di tutti gli autori che si sono comunque un po' per volta sostituiti a Jamie Delano che appunto è stato il primo tutte le serie successive hanno avuto vita molto 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 breve è successo che ad un certo punto lui è comparso o da solo o in storie di gruppo penso alla Justice Dark League qui c'era anche Zatan Zatan è un altro personaggio che compare appunto nella run originale di Hellblazer è successo che ad un certo punto è uscito Constantine Constantine faceva parte di tutto un gruppo della DC di svecchiamento dei supereroi si cercava di vendere anche i fumetti un pochino più adulti ad un pubblico più giovane infatti il Constantine di quella run è molto giovane molto giovane rispetto agli ultimi numeri di Hellblazer in cui era chiaramente invecchiato il problema è che non ha avuto fortuna perché? perché si era un po' edulcorato il tono generale delle storie voi dovete pensare che nel blazer tante storie non finivano bene erano abbastanza crude violente cioè non ci venivano risparmiati anche certi dettagli piuttosto cruenti qui invece si è un po' ripulito il personaggio per renderlo appunto appetibile a un pubblico più di ragazzini è successo che dopo 23 numeri Constantine ha chiuso poi c'è stata Rebirth che anche questa non è durata molto poi ad un certo punto neanche tantissimo tempo fa è arrivato Size Parrier Size Parrier ha detto beh dai ce provo ha riaperto il blazer nel momento in cui era nata praticamente la ex vertigo ad un certo punto è diventata The Sandman Universe quella run tutta quella run di fumetti legati appunto al mondo di Sandman di John Constantine ad un certo punto compare in un numero di Sandman dopo ne parliamo che è gestita da Neil Gaiman e Size Parrier ha detto riprovo a lanciarvela anche qui 12 numeri sono stati scritti c'è stato però di mezzo anche credo che fosse anche a cavallo con la questione del covid morale della favola non ha avuto successo e sono onesta di questo mi dispiace molto perché questi 12 numeri che voi trovate splittati in due volumi per la Panini Comics sono stati tradotti in italiano sono veramente notevoli perché recuperano molto dell'atmosfera e molto del personaggio originale se voi leggete questi di Size Parrier vi sembra effettivamente di leggere Hellblazer di una volta quello originale io ho ancora lì il secondo numero e non ho il coraggio di leggerlo perché è come se dopo dovessi veramente mettere una parola fine al personaggio e alla saga di Hellblazer perché dopo si è uscito Rise and Fall che però sono tre numeri cioè cosa me ne faccio di tre numeri tra l'altro spillati così cosa me ne faccio io di quelli che li leggo in 20 minuti cioè non ce la posso fare infatti quelli ancora non li ho comprati perché mi sento male perché sento che dopo sarà finito tutto e per cui sto cercando di chiararla però lo lunga possibile però se volete recuperarli quelli di Size Parrier veramente sono notevoli perché ve lo dico perché dopo c'è tutto il ma come recupero Redblazer fermi oltre a comparire appunto come dicevo nelle serie sue personali in cui è protagonista o appunto coprotagonista insieme ad altri tipo nella Justice Dark League John Constantine compare anche in The Book of Magic sia quello vecchio di The Book of Magic che però trovate anche questo se non mi ricordo male c'è i quattro numeri originali raccolti in un volume solo quello con il maghetto Team Hunter che scopre di essere un maghetto che ha gli occhiali e che è stato inventato prima di Harry Potter vabbè ok e che viene guidato nei primi quattro numeri tra gli altri a John Constantine alla scoperta appunto dei suoi poteri ecco delle sue potenzialità sia nel vecchio che nel nuovo perché ad un certo punto è stato fatto una specie di reboot di The Book of Magic però non vi so dire com'è il reboot perché ancora non l'ho iniziato a leggere devo ancora recuperarlo quello so che esiste infatti voglio leggerlo poi c'è The Trenchcoat Brigade anche questo lui è un personaggio di un gruppo di maghi mica maghi cheat con il trenchcoat compare anche in Sandman nel primissimo proprio nel primissimo gruppo di storie di Sandman preludie notturni da una mano a sogno quando deve recuperare i suoi oggetti magici che gli servono appunto per poi ricostruire il suo regno compare anche Lady Joanna Constantine in un numero di Sandman che ha una sua antenata che è pigna in culo uguale come lui simpatica è uguale compare in qualche numero di Batman dalla chiusura della run originale però non ha trovato una sua vera e propria collocazione diciamo se lo usano un po' come Jolly compare un po' poi là ci hanno riprovato rilanciarlo ma fondamentalmente nessuno ci ha ancora riuscito questa cosa un po' mi dispiace in soldoni quando io devo spiegare chi è John Constantine se voi doveste descriverlo a qualcun altro arrivo un po' sul lungo forse a dirvelo è tipo Dylan Dog però più stronzo to' per dirvelo un po' così a questo punto possiamo parlare di questa cosa come io lo recupero il blazer bella Penny mi piace un sacco mi sta troppo simpatico questo John Constantine e me le voglio leggerle il blazer allora intanto mi sento di farvi tanti auguri se voi ce la fate grazie cioè che poi in realtà non è così complicato basta che andate su ebay cliccate è il blazer completa dovete averci 550 pippi circa perché più o meno la quotazione il valore dei 78 numeri che sono stati stampati dall'RV Lion perché l'ha stampati l'RV Lion a cazzo di cane però gli ha stampati l'RV Lion all'epoca tutti cioè esiste solo in RV Lion tutta la collezione sono appunto 78 più o meno vale su quello sui 5,550 ci ho provato a fargli abbassare un po' il prezzo sì ma non mi è andata molto bene sarei disposta a spendere sui 400 euro per averli tutti sì sarei disposta mi rendo conto che è una cifra abbastanza importante perché io li ho letti ma come di ci siamo capiti la Magic Press li aveva stampati pure lei però li aveva stampati per autore attenzione per cui anche lì ci sono quei numeri e Garth Ennis quei numeri di Delano il problema come sorge sta cosa che a un certo punto Garth Ennis se n'è andato e ha lasciato il posto adesso non mi viene in mente se era Milligan o a chi sa di fatto che ha lasciato il posto a qualcun altro però dopo qualche numero è ritornato scritto ancora qualche numero cioè per cui capite che non li leggereste comunque in fila li leggete sparpati cioè leggete tutto Garth Ennis che però appunto non è come Delano che ha scritto tot numeri boom si è fermato basta e no gli altri un po' hanno fatto un po' per uno anche Mike Carey a un certo punto è arrivato poi è andato per cui un po' Panini aveva buttato fuori un volume omnibus centinaio di euro novantina di euro con tutte le storie di Garth Ennis che anche lì si ripropone l'antico problema della Magic Press è successo che c'erano degli errori dei casi di traduzione adesso non mi ricordo bene cosa è successo l'ha ritirato dal mercato e ancora non l'ha ributtato fuori è un anno che la gente aspetta io non l'ho preso ecco per quel motivo lì perché poi mi gira le balle e dice ok te mi stampi la Randy Garth Ennis però non mi hai stampato quella di Delano che veniva prima alcune cose però le spiegava Delano cioè nel senso siamo impazziti c'è una leggenda che riguarda John Constantine cioè che Alan Moore Jamie Delano Brian Azzarello e Peter Milligan che sono tutti scrittori appunto delle storie di John Constantine hanno detto di averlo incontrato Alan Moore addirittura ha detto di averlo visto tre volte mentre Brian Azzarello ha detto sì io l'ho incontrato ma guarda non me ne frega niente io amico di John Constantine non voglio assolutamente esserlo forse Azzarello è quello che più dice guarda io cioè nel senso ce lo presento le sue storie ok ciao John ciao ma con te non voglio averci proprio assolutamente a che fare come hanno gestito gli altri media il personaggio di John Constantine me no anche no soffro schifo così per farvi un breve assunto cioè qual è il cioè la questione allora è la questione che si è o edulcorato il personaggio tantissimo serie televisiva ok non lo facevano neanche fumare che voi direte che problema c'è no raga no quel trench che era cioè più stirato quel trench era immacolato non deve essere immacolato quello non è John Constantine tutto cioè pettinando giusto con la cravatta un po' no devi essere stropicciato se no non sei John Constantine John Constantine non lo devi togliere dal suo naturale elemento il suo naturale elemento è Londra smog fumo di sigaretta se lo togli da lì chiamalo Giannino Smith ma non lo chiamate John Constantine per favore quello non gli dare poteri che non ha questo ok gentilmente gentilmente lo lasci biondo grazie perché John Constantine è biondo per favore sarebbe molto carino eviti di ripulirlo se l'abbiamo già detto ho fatto un elenco ragazzi io un elenco davanti alle cose che non devi fare farne una serie tipo procedural che era appunto la serie televisiva cioè ogni puntata un caso e soprattutto evita gentilmente di mostrare a John Constantine che fa le cose di cuore o perché gli ne frega degli altri perché non gli ne frega niente lui non è un personaggio che fa lo fa perché o è tirato in mezzo per cui è so capitato che devo fare mi devo salvare il culo pure io ma è molto raro che lui decide di aiutare una persona perché c'ha il cuore debole per le fanciulle per esempio un po' come Dylan Dog che lei aiuta perché c'ha il cuore debole se innamora no lui al massimo se le fionda però per il resto non gli ha un po' pegande meno comunque sì è successo che hanno fatto un film ma non ve ne parlate grazie perché lo so che tanti lo amano quel film so che piace a tantissimi come film horror e io tutte le volte dico ok ok lo sai che è tratto da una serie di fumetti e non c'entra una mazza con quella serie di fumetti perché io non ce l'ho quel film in sé che effettivamente non è brutto come film Constantine che bello chiamano Constantine in quel film ma il problema grosso è che lo potevi chiamare in qualsiasi altra maniera ma tu l'hai dovuto chiamare come un personaggio di un fumetto e fargli fare delle cose che non sono di quel personaggio prendendo una storia che è abitudini pericolose che è però di quel fumetto cioè è una cosa che mi ha mandato un po' a tazzi sì lo so comunque HBO Max parlava di una serie ad un certo punto è stato fuori il nome di Oscar Isaac che è londinese tanto quanto io sono australiana vabbè non so perché ho detto australiana potevo dire giapponese invece mi è venuto in mente australiana hai visto c'è capito ogni tanto cambio Netflix farà Sandman questo lo sappiamo tutti siamo tutti terrorizzati io personalmente cioè no non è che non ci dormo la notte per carità però vi giuro ho un'angoscia terribile e prevedo la caccata atomica non so perché però ero fiduciosa per quanto riguarda The Witcher per quanto riguarda Sandman zero sono onesta zero ma pare che non ci sarà perché verrà sospedita da Lady Joanna Constantine che è vissuta nel passato per cui come cazzo possibile che stia anche nel presente per aiutare sogno non lo so questa cosa mi manda un po' in bestia ma un pelo però però per renderci felici e contenti se voi vi ascoltate Sandman in edizione audio libero c'è John Constantine e in originale lo doppia Taron Egerton che secondo me è meraviglioso perché gli dà proprio quella 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 voce annoiata quella cosa del tipo ah me ne frega ma perché non mi posso fare i fatti miei c'è proprio c'è proprio il tono di voce perfetto di John Constantine amo follemente per me Taron Egerton sarà John Constantine of my dreams forever and ever anche se non lo faranno mai e vabbè comunque detto tutto ciò raccontatevi un po' del personaggio di John perché vi invito a recuperare se non altro i numeri recuperabili che appunto riguarda il blazer vi dico in realtà se andate in qualche fumetteria i vecchi magic press li trovate non vi sento di dirvi aspettate che la ripubblicano perché la panini finché non la ripubblicano in America non lo rifarà neanche qua in Italia questo ha detto di sì giustamente l'ultima volta che sono andata in fumetteria ho tipo rotto le balle così ai fumettari siamo stati lì a parlare di questa cosa e di questo mio problema mentale di riuscire a recuperare tutto tutto il blazer per cui non si sa effettivamente quando il blazer sarà disponibile e io come sempre queen of fuori catalogo però nel frattempo secondo me per farvi un'idea di chi è John Costant potete recuperare appunto i 12 numeri di Size Barrier che sono veramente notevoli e ne vale assolutamente la pena vi metto il link qua sotto potete magari provare con The Book of Magic anche lì c'è la versione vecchia vi metto il link sempre qua sotto e non lo so è un personaggio che è protagonista di tutto un ciclo di storie horror e non che trovo bellissime perché sono le storie horror di una volta non hanno niente a che fare chiaramente con le storie horror di questi anni è un horror tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 anche se nonostante appunto sia andato avanti fino al 2013 e nonostante il tempo passi è rimasto molto ancorato il personaggio e tutta la serie alle sue origini per cui ha questa visione della magia dei demoni un po' quasi non fantasy però sicuramente più vintage ecco più stagionata e trovo che il bello sia assolutamente questo per questo vi dico che nella nuova serie appunto di Hellblazer sizepar era totalmente ha totalmente centrato con le atmosfere non l'ha ripulito non l'ha patinato perché non deve essere così cioè il fumetto di Hellblazer è sport vi assicuro che leggendo a volte si capisce cioè i caratteri magari un po' spostati i disegni non proprio precisissimi però era una sua caratteristica io trovo che fosse proprio quel segno distintivo un po' come le scritte diverse per i vari eterni nella saga di Sandman magari adesso più difficile che si faccia una cosa del genere non lo so questo dovrete dirmelo voi perché sicuramente tra di voi ci sono più esperti di fumetti rispetto a me però credo che queste tipologie di cifre stilistiche non ci sono più così tanto in più le storie sono veramente cattive cioè non vi aspettate quei tre quarti di storie che finiscono bene del Dylan Dog sempre per tornare al personaggio più vicino che ci sia nella nostra tradizione fumettosa fumettosa è difficile che finisca bene è difficile o meglio può succedere che finisce bene ma si paga sempre un prezzo per fare in modo che le cose vadano al loro posto e purtroppo spesso e volentieri sono le persone vicino a John che lo pagano il prezzo e se non lo pagano nell'immediato state certi che poi nel futuro qualcuno ci finisce e mezzo spero di avervi convinto a provare a conoscere un po' il personaggio di John Constantine lui e le sue mille sfaccettature e i mille personaggi che incrocia in 300 numeri che sono tanti della sua storia qua sotto vi lascio tutti i link a tutti i vari fumetti e quant'altro che vi ho nominato vi lascio il link ad Instagram vi lascio il link a Twitter noi ci vediamo molto presto per il prossimo video tema Halloween fatemi sapere se vi ho incuriositi se avete mai letto qualcosa appunto con protagonista John Constantine potete anche dirmi che siete fan del film e che cioè che alla fine un po' di John Constantine quel film c'è potete dirmelo poi come io la prendo non benissimo ve lo dico già però ma perché purtroppo come voi sapete quando mi toccano qualcosa che io amo molto e non per perché sono curiosi e vogliono scoprire di più e lì sono felicissima io veramente sono disposta a tipo parlarne per delle ore e sono super contenta quando me lo toccano e lo fanno male e fanno dei disastri allora in quel momento mi viene proprio c'è tipo quella cosa che ah shuff questo è un super potere bellissimo scusa ho finito di vedere una puttata in America non la storia è successa questa cosa io mi sono esaltato ho detto oh mio dio sto per venderti l'anima anche se sei l'anticristo ci vediamo molto presto buon Halloween ciao Grazie.